Terzo appuntamento degli eventi programmati oltre la Shoah si celebra presso la Biblioteca Comunale di Taranto, la Giornata dei Giusti. Un momento per ricordare coloro i quali in tempi di persecuzioni svolsero la loro azione benemerita di giustizia. Ne parliamo con Anna Maria Laneve del Comitato per la Qualità della Vita. I primi Giardini dei Giusti sono nati a Gerusalemme nel 1962 e adesso abbiamo avuto anche una serie di iniziative che sono partite proprio da Milano su questi Giardini dei Giusti che adesso si stanno inaugurando e si sono già inaugurati in diverse parti dell'Italia. A Taranto ancora non ce n'erano e quindi abbiamo pensato di intraprendere questo percorso e individuare un luogo per commemorare, come hai detto tu prima, non le vittime dei genocidi ma coloro che si sono distinti per delle azioni di difesa dell'indignità umana che viene fortemente frustrata proprio nelle situazioni di totalitarismo e di genocidio. A Taranto dovrebbero nascere questi giardini presso la discesa del Vasto, in città vecchia? La zona che è tra via Sant'Egidio e dovrebbe finire dove c'è l'attuale monumento dei Carabinieri. Quindi abbiamo inoltrato anche al Comune le nostre richieste e ci siamo anche messi con il gruppo di Milano e la nostra iniziativa quella di oggi è anche presente nel loro sito e stiamo cercando di mettere in atto questa cosa. Il nostro Giardino dei Giusti si cercherà ogni anno di individuare le persone che si sono distinte e hanno indirizzato tutti i loro sforzi per, come ho detto prima, per salvaguardare la dignità umana. Ma noi cercheremo anche di creare delle aiuole che verranno dedicate ad alcuni genocidi.